Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi e le ragazze del Bookblog. Siamo qui oggi per intervistare Giorgio Minisini, campione mondiale di nuoto artistico. Come prima domanda vorremmo chiederti qual è la definizione di nuoto artistico nel dizionario di Giorgio Minisini? Allora, la definizione di nuoto artistico per Giorgio in questo momento è cavolo domani mi alleno 8 ore! No, per me è uno sport incredibile perché comunque è estremamente diverso da tutto il resto che c'è nel panorama degli sport e vabbè sembra un po' scontato perché per tutti il proprio sport è la cosa più figa da fare però credo che quello che ti insegna a livello di squadra e a livello di andare avanti tutti insieme è veramente prezioso. Grazie. Infine vorremmo chiederle, ora che è un campione mondiale, che consigli darebbe a Giorgio Minisini adolescente? Ma tra l'altro che io non sono un campione mondiale ma sono stato, ho vinto un mondiale e io penso che a quello che sono stato devo dire solo va bene così, va bene come è andata, non c'è nessun problema, si sbaglia e se potessi tornare indietro accetterei più sbagli, farei più sbagli, avrei meno paura del risultato che può non andare come voglio io perché alla fine provare è sempre quello che ci può insegnare, invece rinunciare ci impedisce di imparare qualcosa anche dalla sconfitta. Grazie. Grazie a voi.